Bella a tutti ragazzi e ragazzi, sono sempre io, lei e te vi usiamo su un nuovo video Categoria The Impossible Game, ovvero Sugar Sugar, sta ceppa di... ok Play, che è meglio va? Facciamo il primo livello E che dovrei fare? Ah! Che figata di gioco ragazzi! Che figata! Faccio così, fammi vedere C'è proprio una figata ragazzi questo gioco Ah, e due come cappero faccio? Me lo spieghi come faccio? Faccio così e poi... Faccio così... E... sono un... mago ragazzi! Però è un po' troppo lento No, è troppo lento ragazzi Ragazzi, è troppo lento, come faccio? Dai, no... allora... Quit! Lo rifaccio ragazzi Se lo faccio così... E poi faccio così... Ragazzi, sono un fruttatissimo genio! Lo spero! E si ragazzi, finalmente ho capito come fare... Ma che sono pop pop... Pop e pop pom... Che sono pop... Pop corn! Cioè, me fanno venire fame ragazzi... Livello 3... Sugar sugar! Allora... E... E... Cosa è? Ah... Ma che... Spero che... Ci riesco... Lo spero... Lo spero... Ho sbagliato... Ho fatto bene... Scendono pienissimo! Che culo! C'è ragazzi! Bellissimo questo gioco! Bello, bello, bello! Bello, bello, bello ragazzi! Attenzione... No! Attenzione! Non vadelo a casa! Per motivi sicure! I soffi di manico! Non lo può fare! Allora ragazzi! Siamo al quarto livello! Eh... Allora... Vai qui! Ma che cosa è? Cioè, che figata di gioco! Che figata! Eh... 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 Mi attacco al tram! Resetto il livello! Allora... Allora... No... Ho sbagliato ragazzi! No! Non va bene! Non va bene! Non va bene ragazzi! Resetto il livello! Allora è veramente un gioco impossibile questo! Forse ho capito ragazzi! Forse ho capito ragazzi come devo fare! Forse ho capito! Ma forse... Ma forse se faccio così... Se faccio così... Ok! La prima tazza ci siamo quasi ragazzi! Abbiamo quasi finita! Mentre se faccio così... Mentre se faccio così... No! Non va bene! No! Non va bene! No! Nada! 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 E come... Come si fa? No! Ma mi... No! Io piango! Ragazzi c'ho un'idea! Quella che stavo provando! Se faccio così... E aspetto un po'... E poi lo metto qui... Così... E faccio così... Il problema è... Come faccio a fare quell'altra tazzina? Allora... Allora... C'è la cosa brutta che sta pure in altezza! Non posso farlo! Non vabbè... Non vabbè... No! Che cacchio ho fatto? Ci rinuncio ragazzi! Ci rinuncio! Ci rinuncio! Allora... Allora... Adesso provo ragazzi! Faccio prima così! Così! Allora ragazzi! Beh ragazzi! Io ci rinuncio! Ci vediamo al prossimo episodio! La Bossa! Lei ti vuoi commentate! Iscrivetevi!